io volevo solo cogliere l'occasione per spiegare del traino che ha detto prima il caro michele qua c'è i moschettoni corre la corda qui c'è l'impianto stereo ci avviciniamo alle ruote quello che volevo far capire a michele era che la ruota è nata per stare così in questo modo la ruota va molto ma molto meglio perché si dice che rotola mentre invece nell'altro modo così come fa lui secondo me crea dei grossi fastidi cosa dice lei è vero sì ma allora li mettiamo in verticale adesso ne mettiamo quattro in verticale vediamo cosa succede